La Galleria General Atomix è chiusa per ordine del Direttore. Ti do il benvenuto alla Galleria General Atomix. Devi essere il nuovo Supervisore. Sì, esatto. Splendido. Lascia che ti dia il benvenuto al tuo nuovo incarico. Quando avrai avuto modo di sistemarti, vai dal Direttore. Il suo ufficio è situato nella statua al centro della piazza. La Galleria è attualmente chiusa al pubblico, ma lo staff e i dipendenti possono accedervi, naturalmente. Se hai qualche domanda, sarò lieto di rispondere. Perché la Galleria è chiusa? È tutto. Molto bene. Goditi la visita. Ricordate, siete l'orgoglio della General Atomix. Aspetta lì. Qualsiasi modifica delle procedure standard deve essere autorizzata dal Direttore. Vi do il benvenuto da Slocum San Joe. Posso portarvi una bella tazza di caffè caldo? Offre la casa. Tutto qui quello che avete. Ti offrirei le nostre famose ciambelle, ma... Temo che siano andati a male qualche settimana fa. In effetti anche tutto il resto è andato a male, ora che ci penso. Quindi ci resta soltanto caffè. Posso portartene una tazza? No, grazie. D'accordo. Beh, torna a trovarci. Fate attenzione a ladri, intrusi e comunisti. Prego, prendi un numero per agevolare i servizi. Numero dodici. Per favore, attendi il tuo turno. Tredici, numero... Ora serviamo il quattordici. Numero tredici. Ora serviamo il quattordici. Vindici. Qualcuno ha il quindici. Numero sedici. Sedici. Il direttore ha autorizzato l'uso della forza letale contro i saccheggiatori. Diciassette. E tu cosa credi di fare? Fuori, fuori. Numero diciotto. Diciannove. 20. 20. 20. 20. 20. 20. Nessuno? Per favore, attendi il tuo numero. Per favore, attendi il tuo numero. riproviamo. Numero dodici. A tutti i difendenti, segnalate immediatamente ogni comportamento sospetto al direttore. venuto. Chi è? Eh, eh... E' un... cliente. Ora ascoltami bene. Ogni singolo oggetto di questo negozio è esattamente al suo posto. Esattamente! Ci sono molti anni per riordinare tutto. Puoi guardare, se vuoi. Ma non toccare nulla! Non toccare nulla! Hai visto qualcosa che ti interessa? Beh, lascialo lì! Ma non toccare nulla! Magna, non toccare nulla! Perfogare sulla città di incontrazione! L'aiutata nel corso di pietà! Perfogare un'euto! Ma non toccare nulla! Ricordate, c'è dell'orgoglio della General Atominis. Vi do il benvenuto al Back Alley Bullitt. Seguimi, ti faccio accomodare. Sei qui per giocare? Soltanto 5.000 dollari a partita. Non ho tutti quei soldi. Sono spiacente. Torna a trovarci. Hai cambiato idea? 5.000 dollari. Ridicolo. La povertà non è qualcosa di cui vergognarsi. Torna pure quando potrai permettertelo. Stop! Stop! Devi pagare! Cos'è? Non mi hai sentito arrivare? Ecco, ora dobbiamo contattare. Fantastico! Hai giuntato il mio uomo! E per questo devi morire! erano da 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 di! A presto! 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 Aspetta! La grande riapertura! Sei il supervisore 18 alfa della grande riapertura? Sei in ritardo! Sì, sì esatto! L'autorizzazione manuale per la grande riapertura richiede l'autenticazione, quindi dovrò vedere il tuo ID! Eccolo! Scansione! Rilevato inganno! Ti avevo avvertito! A presto! 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 A presto!